Si tratta di un vero e proprio attacco alla credibilità di un'azienda che da sempre esercita un lavoro senza problemi, né per l'ambiente né quantomeno per la mancanza di certificazioni. A parlare sono i vertici dell'Impredil, l'azienda di produzione di conglomerati bituminosi, finita sotto la lente di ingrandimento dei media, dopo il sequestro preventivo dell'impianto da parte della Procura. I chiarimenti arrivano puntuali, come più che puntuali e senza approfondimenti della questione, giungono le prime pagine dei giornali a ingigantire il tutto come scuppo eclatante. La verità, secondo l'azienda, non è assolutamente l'inquinamento, in quanto impianti simili sono posti anche nel centro di molte città metropolitane e la fuoriuscita dei fumi è solo in percentuali assolutamente non dannose per la salute pubblica e autorizzate dal legislatore di Zolfo. La mancanza momentanea di autorizzazioni è sicuramente da attribuire alle lungaggini burocratiche delle richieste inoltrate alla provincia di Sernia. Le volture per il passaggio gestionale della Impredile SRL ha comportato l'inoltro di domande autorizzative già in possesso alla precedente gestione, che scadevano a fine anno. Era stata inoltrata richiesta da otto mesi alla provincia di Sernia e ad oggi ancora si era in attesa. Il gap autorizzativo ha interessato solo pochi giorni e non anni, come erroneamente si è comunicato, e l'impianto di bituminaggio è stato sempre sottoposto all'attenzione di continue manutenzioni e per questo assolutamente non inquinante. Da sempre nell'area di Venafro ci sono industrie conciminiere in cui le temperature sono ben al di sopra dei 700 gradi di temperatura, oltre la quale si sprigiona di ossina, ma stranamente l'attenzione si è spostata su un piccolo impianto di bituminaggio, non inquinante per antonomasia, mentre tutto tace sui veri fenomeni inquinanti per la città. Per quale motivo?